Buongiorno, benvenuti a tutti cari telespettatori di Fano TV. Oggi è il 2 di settembre 2016, questa è Occhio ai giornali, la rassegna stampa che apre la giornata informativa di Fano TV. L'informazione locale che da più di dieci anni vi tiene compagnia tutti i giorni in diretta con i giornali e lo facciamo subito. Prima andiamo a vedere il santo di oggi. Il santo di oggi lo vediamo anche con l'aiuto della grafica, sono due beati, li leggo anche attraverso il libro che abbiamo qua. Sono i beati Carlo e Luigi Urtrell. Stiamo parlando di Santi del 1790 circa. Il sole è sorto alle 6 e mezzo, tramonterà alle 19 e 43 minuti. Il tempo previsto per la giornata di oggi, come potete vedere anche dalla grafica della protezione civile, è un cielo sereno, con al più poche nuvole soprattutto nell'entroterra. I venti sono settentrionali di brezza leggera e le temperature sono stazionarie o in lieve aumento. Per la giornata di domani, sabato 3 di settembre, ancora cielo sereno o poco nuvoloso per un transito di lievi ed innocue velature, le temperature sono in aumento. Domenica 4 settembre potrà essere un'altra giornata probabilmente di mare perché le temperature sono senza variazione di rilievo, quindi sarà comunque una giornata calda e soleggiata perché il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. La lunedì, martedì sarà molto probabilmente invece caratterizzato da condizioni di tempo perturbato con precipitazioni addirittura diffuse ed abbondanti, quindi arriverà il maltempo, insomma il cattivo tempo che abbasserà le temperature e ci darà la sensazione di estate finita. Poi vedremo se sarà così anche con il meteo, vedremo se verrà confermata anche dalle previsioni. Allora cominciamo adesso a leggere i giornali e la prima pagina del Corriere Adriatico, l'edizione di Pesero sulla sanità e in particolare l'ospedale unico. Chiaruccia è il sito più accessibile ma l'applicazione di Google Map conduce a muraglie. Il sindaco di Fano dice, l'abbiamo sempre detto, mentre Gambini, presidente dell'area vasta che raggruppa tutti i sindaci, che è anche sindaco di Urbino, meglio una scelta politica che l'algoritmo e quello che è il computer, insomma l'applicazione. Il Vescovo d'Ercole c'è un richiamo in prima pagina sull'edizione di Pesero anche al terremoto che ha sconvolto Marche e Lazio. Il Vescovo di Ascoli, Monsignor d'Ercole, dice l'ora della risurrezione, lacrime e preghiere per la Sindone, la reliquia di Arquata, traslata al Duomo di Ascoli tra la commozione dei fedeli. Questa è la prima pagina, andiamo a vedere subito quelle interne. A Urbino c'è stato un brutto incidente, un gravissimo incidente con lo scooter. Un ragazzino è finito, un ragazzo di 18 anni, è finito contro un palo, adesso è gravissimo. Trasportato in eleambulanza all'ospedale di Torrette, il ragazzo è in prognosi riservata. È un incidente del tutto autonomo che è avvenuto prima delle tre e mezzo di ieri pomeriggio lungo la strada provinciale 9 Feltresca. Domenica senza auto invece alla gola del furro, gli ambientalisti chiedono di limitare gli accessi sulla vecchia Flaminia. O invece c'è online il bando per il biegno della scuola di giornalismo. Domande che sono da presentare entro il 20 di settembre. Tagliolini, il Presidente della provincia di Pesaro, prova a stoppare il braccio di ferro dei rimborsi. Il Presidente dice che la Regione troverà la soluzione migliore. Guerra sulle cifre sui rimborsi sull'asse provincia-regione. Il Presidente smussa i toni. L'ente locale rivendica più di 6 milioni di euro ma dal capoluogo ne chiedono 8. La carica dei 117 per un posto da vigile urbano aspiranti da tutta Italia da Pecchio per un incarico a tempo determinato. Da affano eventi manca un'identità. A affano si organizzano tante manifestazioni di successo, sia d'elite che popolari. Solamente il Carnevale connota però la città. Ma d'estate gli è dedicata soltanto una singola serata. La manifestazione dei quattro cantoni è tra le più riuscite di questa ultima estate che si sta appena chiudendo. Secondo Schiaroli occorre un disegno complessivo per settori e target diversi. Anime Nostre, la poesia del vissuto fanese all'ex chiese di San Francesco, l'allestimento di Pacifici e Florio di grande impatto. Dunque c'è la recensione di questo spettacolo che porta anche la firma di Maurizio Lodovicchetti. I racconti sono i suoi. I ritratti dell'anima che è stato poi adattato per il teatro da Claudio Pacifici. Al bastione San Gallo non cercavamo un barista. Marcheggiani replica i 5 stelle. Centrale è il progetto culturale. La licenza per un locale è stata chiesta dopo l'affidamento, in futuro sarà invece nel bando. Per i dieci anni della sostenibilità c'è una festa, l'inaugurazione 18.30, tre giorni di convegni, riflessioni, mostre e anche musica. Avremo solo fastidi e disagi. La CISL rilancia le critiche sull'interquartieri e chiede il tavolo della mobilità. Per il responsabile Giovanelli è necessario tutelare dal traffico i quartieri del Poderino e della Trave. Sollecitati al comune percorsi pedonali, piste ciclabili e limitazioni veicolari. Gadano parla del corpo politico delle donne, il cantante dei Marlen Kunz alla rassegna, non a voce sola, che il 7 fa tappa a Fano. E ancora, dalla Valle del Cesano, il Corriere Adriatico, erosione, lavoriamo insieme ai bagnini, Barbieri, il sindaco di Mondolfo indica le priorità, la priorità delle scogliere. Non passa invece la mozione dei 5 Stelle, ma il sindaco non esclude la possibilità di ricorrere ai Riffball. Sono due le linee di finanziamento individuate, critiche di isolamento da parte di Loccarini. Sotto, via Libera, siamo a Mondolfo, sempre a una grande azienda di cosmesi, nuove opportunità di lavoro, ho provisto una pista ciclabile da Piano Marina a Marotta. E adesso apriamo il resto del Carlino. Il resto del Carlino, la prima pagina, è quella che riguarda il giorno dopo l'incidente mortale che ha stroccato la vita ad un giovane di 34 anni, Massimo Anatrelli. Troppi quei morti sulla strada a Ponte Valle. La tragedia suscita le proteste dei residenti e anche del parroco, che dice pericolo in aumento con il semaforo fuori uso. Il titolo è per le scuole che sono a norma, ma non antisismiche. Dei 55 edifici scolastici comunali, solo uno, cioè quello di Borgo Santa Maria, sempre a Pesaro, risponde a tutti i requisiti. E vi ricordo che anche noi stiamo facendo, abbiamo cominciato ieri, una nostra mini-inchiesta che riguarda appunto la situazione degli edifici scolastici. Ieri vi abbiamo parlato della situazione a Cartoceto con le scuole, in particolare a Lucrezia. Un servizio che vi riproporeremo nelle repliche delle 11 e delle 13 e 40, 13 e 45, oppure un servizio che troverete nell'edizione online del telegiornale. Le pagine interne del resto del Carlino, a Piobbico, a Piobbico c'è un record di candidati per eleggere il re dei brutti. Grande festa, ospite d'onore sarà Platinette, la vedete nella fotografia qua. Si onora la polenta, sarà cucinata seguendo in modo rigoroso le ricette tradizionali. E poi Claudio Patregnani, la storia da Barchi, di questo uomo che ha vissuto praticamente una vita sempre di corsa, è il neosindaco di Barchi che disputa domenica a Wolfsburg la sua settantasettesima maratona. E poi da saltare invece ci sono crepe dopo il terremoto, il santuario è inagibile, i controlli effettuati negli ultimi giorni sugli edifici pubblici e di culto situati nel territorio del comune di Saltara hanno portato la chiusura per inagibilità di un simbolo del paese metaorense. Si tratta del santuario della Madonna della Villa, posizionato lungo la strada che dal centro porta in direzione Cartoceto. La pagina di Fano monta la polemica nella maggioranza, seri minaccia di mandare tutti a casa. Ieri mattina il sindaco ha convocato nel suo ufficio i vertici del PD locale. La patata bollente riguarda il nuovo ospedale, la scelta del nuovo ospedale che rimane sempre al centro del dibattito politico. Enrico Nicolelli non ha preparato un piano B alternativo a quello di Chiaruccia. Questa è un po' l'accusa che viene rivolta dal PD al sindaco socialista Massimo Seri. La caccia, qualcuno se ne sarà accorto, è stata riaperta o meglio è in preapertura, questo è il titolo del resto del Carlino, ma a Trebbia Antico i cacciatori svegliano tutti, protestano i residenti, non sono previste, chiedono distanze dalle case. Questi possono sparare ovunque, questa è l'obiezione, insomma la critica che fanno i residenti di Trebbia Antico. C'è un calendario in ritardo per l'HVVF, una scelta scellerata, quella della regione che fa sparare anche alla tortora. La regione ha impedito, gli ambientalisti sono polemici, la regione ha impedito che i nostri ricorsi al TAR potessero fare effetto. E' il solito massacro di uccelli. E poi sulle pagine del resto del Carlino c'è l'ultima pagina che prendiamo in esame questa mattina, e il dopo la tragedia appunto di Massimo, c'è il racconto di Cinzia che è stata la prima soccorritrice, si tratta di un'infermiera di passaggio, Cinzia Bertozzi, 51 anni, infermiera all'ospedale di Pesaro, che risiede a Santa Veneranda ed è stata la prima soccorrere Massimo Natrelli, il 34enne di Villa San Martino, deceduto nell'incidente stradale accaduto intorno alle 13 di mercoledì. e il Carlino pubblica due pagine su questa tragedia, una dove c'è l'intervista appunto a questa soccorritrice, l'altra invece è un'intervista ai residenti di quella zona che protestano appunto per la pericolosità di quella strada. La rassegna stampa Occhio e Giornale finisce qui, grazie per averci seguito, ci vediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia. La rassegna stampa Occhio alla Notizia.